Sarà uno scontro salvezza quello che l'Albino Leffe si troverà a disputare sabato in casa contro il Gallipoli. Al Comunale Mondonico è chiamato ad ottenere i tre punti che a Bergamo non arrivano dal campionato scorso. Ma è ancora la vittoria, speriamo che sabato arrivi, contro una squadra che lotta come noi per salvarsi. E questi partiti diventano praticamente quasi determinanti perché poi se si vince si lascia indietro e perciò bisogna per forza fare i tre punti. Il Gallipoli viene da due gare in pochi giorni, sabato contro il Lecce e martedì a Brescia. Una squadra che è stata costruita in 20-25 giorni, però ho visto anche altre partite che hanno messo in difficoltà delle squadre e perciò sicuramente non è una squadra sproveduta e noi dobbiamo pensare che venga qua il Gallipoli che ti farà vincere facilmente perché c'è visto che quest'anno tutte le partite sono difficilissime, perciò dobbiamo andare in campo con maggiore attenzione, maggiore cattiveria, con tutte queste cose che permetteranno di portare la vittoria, penso. Tornano a disposizione anche due pedine importanti della scacchiera dell'Albino Leffe, Cellini che sarà regolarmente in campo dal primo minuto al fianco di Ruopolo e Sisse. Sì, dovrebbero rientrare questi giocatori qua, poi saranno il ministro a decidere di farli giocare o no e sicuramente sono giocatori importanti per noi, però bisogna vedere che non è che un giocatore ci può risolvere la partita, deve essere tutta una squadra a permettere all'attacco di segnare tutta una squadra che deve difendere. Sicuramente questi giocatori ci potranno dare una mano come tutti gli altri.